Il capoluogo d'Abruzzo è tra i dieci finalisti per la selezione della città capitale italiana della cultura 2026. L'Aquila presenterà ai prossimi 4 e 5 marzo in audizione pubblica il suo progetto Città del Multiverso. Insieme a lei ci saranno, con i relativi dossier, le città di Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese. La proclamazione della capitale italiana della cultura si terrà entro il 29 marzo 2024. La città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro, il tutto per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura. Questo finanziamento sostanziale, afferma il Ministero della Cultura, permetterà di tradurre le idee in azioni concrete, dando vita ad un programma annuale per esporre la ricchezza culturale e le prospettive di sviluppo della città. Al centro del progetto L'Aquila Città del Multiverso ci sono salute pubblica e benessere, coesione sociale, creatività, innovazione e sostenibilità socioambientale. L'essere tra le finaliste è un primo passo, commenta il sindaco Pierluigi Biondi, su cui continueremo a lavorare per ottenere il titolo.